casa sanremo 2020 eccoci qua per gli eventi collaterali della settantesima edizione del festival di sanremo targato amadeus abbiamo appena ascoltato i music style kid allievi di daniela tessore qui a casa sanremo appunto e ora andiamo a conoscerli meglio ragazzi ditemi i vostri nomi leonardo valentina gabriele doriano bene questi nomi dei nostri piccoli artisti e adesso vi chiedo qual è il vostro cantante preferito lorenzo sereno lorenzo sereno lorenzo sereno lorenzo sereno lorenzo sereno allora mi sembra di aver capito che il loro cantante preferito è lorenzo sereno valentina valentina eccola dove hai sentito cantare lorenzo sono andata a genova a vedere il suo concerto porca miseria ti è piaciuto leonardo leonardo eccolo qua il piccolo leonardo mi avvicino chi è lorenzo sereno è un allievo grande di daniela daniela tessore music style atelier delle voci che cosa pensi chloe di lorenzo è bellissimo è bellissimo ha degli occhi stupendi l'ho conosciuto anch'io è veramente bellissimo doriano qual è la canzone che ti piace di più è più forte di me e te gabrie you are the night e allora tutti insieme cosa dite di lorenzo sereno è bellissimo è bellissimo grazie bellissimo 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 con te ogni giorno è sia unico e magico perché è bellissimo 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 è splendido magnifico fantastico ciao 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 ciao